Tag Oyer Carrera Lady, l'orologio da polso che unisce eleganza e prestazioni. Questo orologio è un'icona di stile, raffinatezza e qualità nel mondo dell'orologeria femminile. Il Tag Oyer Carrera Lady è un orologio da polso di alta gamma, progettato e prodotto dalla prestigiosa casa orologera svizzera Tag Oyer. Questo orologio fa parte della collezione Carrera, lanciata nel 1963 e ispirata al mondo delle corse automobilistiche. Il nome Carrera deriva dalla Carrera Panamericana, una leggendaria gara automobilistica che si svolgeva in Messico negli anni 50. Il Tag Oyer Carrera Lady è la versione femminile di questo orologio, che combina il design sportivo con l'eleganza classica. Il Tag Oyer Carrera Lady è un esempio straordinario di design orologero di alta gamma. Con la sua cassa in acciaio inossidabile o in oro, il quadrante finemente lavorato e la cura dei dettagli, questo orologio cattura l'attenzione con la sua bellezza classica. Il quadrante, disponibile in diverse varianti di colore, presenta lancette e indici luminescenti che consentono la lettura del tempo anche al buio. Il vetro zaffiro antigraffio protegge l'orologio da eventuali danni, garantendo la sua durabilità nel tempo. Il movimento può essere al quarzo o automatico ed entrambi garantiscono un'accuratezza impeccabile, mentre la resistenza all'acqua fino a 100 metri lo rende adatto a una varietà di occasioni, dalla vita quotidiana agli eventi più speciali. La conchecazione aggiuntiva di questo segnatempo è la data, visualizzata a ore 3 o 6 tramite una finestrella. Questo modello è disponibile in diverse versioni di colori e materiali, tra cui blu, nero, madreperla e molti altri. Alla lunetta e al quadrante, in lacune versioni, vengono aggiunti dei diamanti. Nel quadrante, i diamanti vengono utilizzati come indici, una caratteristica che rende ancora più lucente e lussuoso il Carrera Lady. Se sei alla ricerca di un orologio da polso da donna che unisca eleganza e prestazioni, il Tag Hoyer Carrera Lady è la scelta perfetta per te. Nel closely. Grazie a tutti.